Ordinanza di chiusura anche per la piscina comunale di Foiano a firmarla è stato il sindaco Francesco Sonnati ad eseguirla ai carabinieri nelle scorse ore. Anche in questo caso è stato sentito il parere della ASL di Camucia come accaduto ad Arezzo anche in questo impianto sportivo. Negli ultimi mesi erano state elevate delle multe per il mancato controllo del Green Pass da parte del gestore che è lo stesso della piscina comunale di Arezzo. L'ordinanza del sindaco parla chiaro il provvedimento, sottolinea che il gestore ha più volte esternato la volontà di non controllare il Green Pass per l'accesso alla piscina ed è stato evidenziato conseguentemente che la condotta nella gestione della piscina comunale non costituisce un episodio isolato ma anzi evidenzia una costante pervicace volontà di non applicare la normativa in materia. Una condotta che recita l'ordinanza determina senza dubbio un aumento di rischio di contagio per gli utilizzatori dell'impianto natatorio. Come nel caso di Arezzo, peraltro ancora l'accordo non è stato trovato e quindi la piscina rimane chiusa, l'attività potrà riprendere anche a Foiano della Chiana a seguito di una comunicazione da parte del titolare da inoltrarsi alle comune, alla prefettura e alla ASL dove si evince l'attivazione dei controlli richiesti dalla normativa.